Ben tornati per ripartenere il ventesimo episodio di Antartic Drake's Fortune Io come sempre sono il Giole Voto e stiamo a ripetere qui dopo un bel casino Drake non voleva prendere il traccio fuori dell'isola Sully, stava cercando di farlo Cosa? Si è scusato o qualcosa Oh neanche Guarda, lo so che suona troppo, hai bisogno di credere Bene, qui c'è un tesoro Rosali con teschi d'oro Decisamente inquietante, ma ok Qui c'è altro Assolutamente no, ok Vediamo qui sotto cosa c'è allora Ho perso un po' il filo del discorso sinceramente Un altro tesoro Maschera d'argento e zaffiri Abbiamo trovato la metà dei tesori in tutto questo comunque Dobbiamo continuare a scendere a quanto pare Dobbiamo continuare a scendere a quanto pare Dobbiamo continuare a scendere a quanto pare Eccolo Questo è il finale della serie questo Questo è il finale Cosa 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 Le salle del ribaltino di Eldorado S comenzare Ha, ha Avi Lui si ha portato a casa. Guarda questo. Navarro Adios, Pepe So little imagination Vaghen la red Vaghen la red Navarro Vaghen la red Vaghen la red Vaghen la red Vaghen la red Oh no What the hell is that? Run! Run! Jesus What are those things? It's the Spaniard Sully They never left Vaghen la red 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 Ok, 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 dai, 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 che sta andando bene C'è mancato poco che mi sto... Ma raga, attenti, no, 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 no Tutta cosa... No, poi c'è a dire che non mi aiuta per niente Cioè, no, raga, poi come faccio io a cuore con questi che mi... Dai, 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 in arco non mi posso buttare, non mi scompano Quindi proprio... Poi, c'è mani detto, pompa che ci vuole un'ora per ricaricarlo C'è forse un altro modo per spingere No, è così... Niente, niente, non mi capisco io, adesso non ci riesco più No, adesso non mi scompano così Dai... Dai... No, non è che, raga, mi mette per conto... Due colpi e un ammazzano, ammazzano, raga È così... Due colpi... E io stai facendo come se non... Ok... Non,»,»,、''... no 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 no.... lo so che se n'è stato altro eh?! e lo so che sia a schiava ma... o oder... No Genio 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 La retta dei conti Ultimo capitolo Probabilmente credo almeno sia l'ultimo capitolo Poi non lo so se è così o almeno Facciamo fuori questi e poi c'è l'episodio Bene, ottimo Allora, regà, ma se poi non giro col pompa Così Ma non se poi E questo va anche meglio come un colpo Dannazione però, così Ma avessi una granata almeno Assolutamente niente E qui l'aveva fatto tutta C'è Così, regà Non ci vuole niente Ok, fuori uno E dai, ma dai, regà No, non si può fare Scusate, ma stasera va così la storia Scusate Scusate Senza armi, senza munizioni Senza niente E qui Non è che com'era che muovo messo da fuori il suo pezzo Ma neanche ne ha munizioni Niente Quello che non vediamo Non è Confittura più di tanto Quello è calato E' sciolta Va bene ragazzi Facciamo così Allora Io questo pezzo me lo faccio da solo Per i ragazzi aver visto il video Lasciate un commento Se potete iscrivervi al canale Ma il vostro giorno è tutto Stay Ciao